Questa è una meditazione, l'attenzione è rimanere in uno stato di consapevolezza e accettazione di tutte le qualità dell'ambiente. Trova un luogo dove ti senti a tuo agio, dove non sarai disturbato. Mettiti in una posizione confortabile. Poiché il lago è una superficie piatta, la posizione migliore è da sdraiare, ma se preferisci puoi anche comodamente sederti. Le tue braccia appoggiano morbidi a lati del corpo e lascia che le gambe si rilassino. Chiudi gli occhi. Adesso lascia che la mente sia come il lago, che riflette tutte le nuvole che passano sopra di esso, senza alcun attaccamento ad esso. Porta attenzione al respiro. Inspira lentamente ed espira profondamente. La respirazione è come un ancora che ci lega al momento presente. Qui ed è dove io respiro. Ascolta il tuo respiro. Rilassati. Cerca la calma. Segui il percorso dell'aria. Che fresca entra dalle narici e passa la bocca. E giù fino ai polmoni. Come all'addome. Che si solleva. Ed ispirando senti come si abbassa. E come l'aria calda e umida esce dalla tua bocca. Ascolta il suono del tuo respiro. E della calma che ti sta affuggendo. Ispirando prendi consapevolezza dei tuoi piedi. Non muoverli. Percepisci ogni singola ditta. Ispirando lascia che si rilassino completamente. Adesso sii consapevole delle tue gambe. Attenzione. E lascia che ogni cellula delle tue gambe si rilassi. Lascia andare l'attenzione. E fa che affondino morbide al suono. Ispirando invia tutto il tuo amore alle gambe. Espirando sorride. Ispirando sorridi. Ispirando sorridi a lui. Ispirando sorridi a lui. Prendi consapevolezza delle tue mani. Delle dita. Senti la gioia di avere due mani. Adesso lascia andare un'attenzione, fa che ogni cellula delle mani si rilassa. Ispirando prendi consapevolezza delle braccia e della loro forza. Lascia che le braccia adesso si rilassino fuori. Invia tutto il tuo amore alle braccia. Sorridi a dormi. Ad ogni respiro senti come le tensioni del tuo corpo si sciogliano. Grazie. 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 Ispirando sei consapevole delle tue spalle. Ispirando cedi ad ogni attenzione e lascia che si rilassino al suono. Rivolgi la tua attenzione alla schiena. E ascolta il peso che porta su di esso il giorno. Ispirando. Ispirando. Permettile che possa finalmente abbandonarsi al suo. Lasciando andare ogni attenzione. Adesso percepisci la tensione che avvolge il tuo collo. fa che un cellula si possa rilassare. E che le tensioni se ne vanno. Prendi consapevolezza del tuo volto. E di tutte le sue parti. Pizzicolo. La bocca. Il naso. L'orecchio. Gli occhi. La fronte. Adesso ispirando. Fa che si possa rilassare e rimuovere ogni traccia di fatica sul tuo viso. Lascia. Lascia che gli occhi si rilassino. Invia tutto il tuo amore al volto. Sì. Con ogni respiro ascolta. Come il tuo volto si rilassa sempre di più. Profondamente. Ora rivolgi la tua attenzione al cuore. Senti com'è meraviglioso avere un cuore che batte. Lascia che il tuo battito si calme. rilassati. Ispirando. Prendi consapevolezza di tutto il tuo corpo. Ascolta. Percepisci. E adesso. Ispirando. Godi della sensazione del tuo corpo che giace completamente rilassato e tranquillo sul suolo. Invia amore e compassione al tuo corpo. Senti. Senti gratitudine verso il tuo corpo. Adesso lascia che il corpo si rilassi ancora più profondamente. e affonda sempre più il suo corpo. Ad ogni respiro senti la calma che ti avvolge. Senti. Come le tensioni si sciogliano. Come il tuo corpo si rilassa. E capisci come il tuo cuore ralenta il battito. Ascolta il suono del tuo respiro. Ascolta il tuo corpo. Dio di пишi lo stesso. A presto il tuo corpo. Ii ovo la mano. A presto. E allora. E allora. Cosa. Alla ora. Ovi è andata di QTSS. E allora. È. E allora. Sona. Quando hai la cosa. L'è. Adesso, lentamente, inizia a muovere le dita delle mani e dei piedi, dolcemente, una via frutta. Poi muovi le mani, le braccia, i piedi e le gambe. Senti il risparmio, il collo e muovi lentamente. Adesso il riso. Un naso. Stirati la schiena, portando le braccia oltre la testa. Apri gli occhi lentamente e godi della bellezza nel poter vedere. Ascolta i suoni che ti circondano. Sei grato di poter udire la melodia del mondo. Prenditi tempo. Il tempo necessario. Fa attenzione e con molta calma alza il busto e mettiti seduto. Il tornado su è Anna dalla La fai per mainscukazione Tornato se circondi solo Grazie.